A Ravenna 2012, Piazza del Popolo, siamo con Roberto Barone di Labelab. Parliamo di Lab Innovation, questo importante evento che si terrà venerdì. Quindi tecnologia, ricerca e nuovi saperi per la gestione dei rifiuti. Sì, è un progetto che Labelab ha voluto inserire nella quinta edizione, è una inizia nuovissima, infatti Lab Innovation è la prima edizione. Ci siamo posti un problema che è quello della situazione attuale, delle normative. Il mondo sta cambiando, l'Italia deve applicare il 65% di RD, l'Italia è molto indietro, perlomeno una grande parte dell'Italia è indietro. Questo momento vuole fare un po' la sintesi su quelli che sono i nuovi sistemi, le nuove norme e quello che può essere di interesse per i lavori, specialmente cosa c'è sul mercato, sia delle informazioni, delle norme e dei numeri, detto molto virtualmente, ma anche delle tecnologie. La seconda parte infatti è sviluppata sulle tecnologie. Sono una parte innovativa sicuramente, alcune che si stanno avvicinando nel mondo di applicazione ai rifiuti. Per cui questo è un po' in sintesi l'obiettivo che ci siamo posti, dare delle risposte nuove a problemi vecchi, però alla luce di quello che il mondo sta attraversando e di quello che la legge ci sta imponendo. Grazie Baronio, buon lavoro. Grazie mille, a voi. Grazie a tutti.